Prima i gioielli, poi le banconote scomparse misteriosamente di settimana in settimana in casa a derubare un'anziana coppia vittima dei furti, la collaboratrice domestica da tempo in servizio nella loro abitazione di Montevarchi. La donna è stata scoperta da un'indagine lampo dei carabinieri di Cavriglia scattata dopo la denuncia degli anziani coniugi. All'ennesimo episodio infatti la coppia di ultra novantenni ha deciso di rivolgersi ai militari raccontando la vicenda e fornando dettagli demonili trafugati per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. Ben presto il cerchio si è stretto attorno alla colfa, ulteriori approfondimenti svolti anche con la visione dei filmati di videosorveglianza hanno poi aggravato la sua posizione. Messa alle strette ha ammesso le sue responsabilità. Immediata la perquisizione, eseguita in flagranza di reato dai carabinieri che hanno rinvenuto nella sua abitazione, la maggior parte dei monili d'oro scomparsi negli anni dalla casa, recuperati e restituiti ai coniugi. La donna è stata denunciata per furto in abitazione, aggravato e continuato mentre proseguono gli accertamenti per tentare il recupero della refurtiva mancante.